Sarei per iniziare ma sono senza microfono? Allora, sarei per iniziare. Allora, buonasera a tutti, sarei per iniziare i lavori e oggi non ci sono casse, è un microfono che serve per lo streaming, se no non ci sentono da casa, siamo in streaming, c'è questa cosa qua. Quindi, visto anche la densità dell'incontro, io lo inizierei ringraziando subito l'ospite di stasera perché è un ospite che siamo molto onorati di avere qui con noi, che è Simone Marchesi della Pristoli University. Grazie mille Simone di essere qui con noi. Ringraziamo moltissimo l'associazione Semicerchio, il presidente Francesco Stella, professore, che è qui con noi stasera e tutta l'associazione che ha reso possibile questo incontro fortunato. Ringrazio altresì, Simone Pagliai che è la persona che ha reso materialmente possibile tutti questi incontri perché li costruisce, li pensa, li mette a punto con un amore infinito e un'intelligenza che ovviamente ce lo fa apprezzare. Insieme a loro, una coppia che ormai parte della formula tandem, che sono Serena e Anita, del gruppo a voce alta dei volontari della biblioteca, che sono due lettrici volontarie e che ci stanno accompagnando in questo percorso di lettura. Grazie per il loro impegno, per il loro sforzo, per la loro dedizione. Vorrei ringraziare anche Mattia, oggi è nuovo, è un operatore nuovo ed è però gradito perché ci seguirà in tutto questo. Lascio la parola velocissimamente a Francesco per un saluto e spero anche per un futuro insieme di collaborazione su questo progetto. Grazie Francesco. Grazie al direttore Emiliano e a tutti quelli che hanno accettato di collaborare, io non sapevo di dover parlare ma naturalmente mi fa piacere porgere un saluto da parte di Semicerchio Rivista e Semicerchio Associazione. Non potevamo non rispondere all'appello ordine del direttore di proporre un tema e non potevamo proporre cosa migliore che un incontro con Simone Marchesi che era di passaggio insomma in questi giorni a Firenze, pur essendo toscano ma insomma insegna come avete sentito in una delle più prestigiose università del mondo, Princeton, dove cura gli interessi di Dante, Boccaccio e non solo perché ha dalla sua parte una capacità di ascolto che vedrete, penso anche nella presentazione di oggi straordinaria della cultura contemporanea, è stato in grado insomma di proporre libri sull'agostinismo in Dante e di commentare i testi delle canzoni di Virginiana Miller, quindi che è rock indie degli anni 90, con la stessa perizia e profondità perché una volta che uno ha un metodo diciamo poi è in grado di applicarlo. E su Dante in particolare, lui parlerà di Dante con i compagni del dialogo di Dante e Cavalcanti, però è stato coinvolto nell'ultimo nostro numero che presenteremo al gabinetto VSE lunedì prossimo nel pomeriggio che è dedicato alle traduzioni in lingue europee e in lingue orientali, coreano, cinese e giapponese di Dante e alla traduzione iconografica diciamo che Roberto Abbiati ha realizzato per accompagnare le scelte di Simone di Terzine che lui commenta dalla Divina Commedia con una scelta secondo me originalissima, una capacità di individuare passi che fanno scoprire di aspetti di Dante nuovi anche in segmenti che persone che come me o come molti dei presenti pensavano di conoscere invece scoprono del tutto nuove. Quindi spero che da quel libro qualcosa di oggi possa essere riproposto e ringrazio ancora Simone per la generosità e tutti i presenti. Lascio la parola Allora grazie, grazie a tutti, grazie a Emiliano, a tutta la Biblioteca Nova Esolotto, non rinomino tutti che sarebbe complicato ma ringrazio tutti. Vorrei anche ringraziare, ricordare gli incontri precedenti di Tandem e ringraziare i due relatori delle scorse volte che sono qui presenti grazie a Michela Landi che ci ha parlato in aprile di Jean-Jacques Rousseau, Giulia, la nuova Eloisa e di La Clos, le relazioni pericolose. L'incontro è ancora disponibile, correggetemi se sbaglio, Biblioteca Nova, sul canale YouTube della Biblioteca Nova e sulla pagina Facebook. E vorrei ringraziare anche Valerio Viviani che invece il mese scorso ci ha parlato di Shakespeare e di McEwan, ha parlato di Amleto e di Nel Guscio, un romanzo di McEwan che all'Amleto è ispirato. E anche Valerio Viviani lo potete trovare su YouTube e sulla pagina Facebook della Biblioteca Nova e ringrazio entrambi per essere venuti, mi fa molto piacere vedervi. Simone Marchesi l'hanno già presentato abbondantemente, io lo ringrazio di nuovo, ci siamo sentiti prima dell'incontro per preparare un po' le cose. Lo ringrazio per la sua gentilezza, per la sua vivacità e per la sua disponibilità per essere arrivato qui anche a giugno inoltrata. Sulla sua attività abbiamo già detto, il libro a proposito di Dante l'ha ricordato Francesco Stella, l'incontro del gabinetto VSE di lunedì prossimo l'ha ricordato Francesco Stella. Quindi noi credo che più o meno possiamo procedere Simone. Oggi l'incontro si intitola Il grande amico e confronteremo la vita nuova di Dante Alighieri e le rime di Guido Cavalcanti. Due libri della fine del 200, quindi La vita nuova, un prosimetro ben organizzato da Dante, le rime come Simone mi ha fatto presente, come Simone Marchesi mi ha fatto presente. Un esempio di non canzioniere, quindi di liriche scritte dall'autore nel corso della sua vita e poi raccolte posteriormente. Ora, due libri diversi ma che hanno molte cose in comune. La prima cosa che volevo chiedere a te Simone è il titolo, perché mentre preparavamo questo incontro io ti ho proposto un paio di titoli, ma tu con grande sicurezza mi hai detto io lo vorrei chiamare Il grande amico. Ora però io ho acconsentito con piacere perché il titolo mi sembrava molto bello, anche come suono, ma ora a te tocca spiegarlo. Perfetto, allora. Grazie innanzitutto, sono felice di essere qui. Allora, Il grande amico, perché l'ho chiamato Il grande amico? Perché c'è un gioco di parole dentro e c'è un titolo che nasce altrove, nasce in altra letteratura. Il grande amico è la traduzione italiana, il titolo con cui è stato tradotto in italiano, un romanzo francese, Le Grand Meurne, che è uno dei miei libri preferiti in assoluto. Io lo adoro, l'ho letto quando avevo l'età giusta probabilmente. Il mio francese non esistente, o meglio, il mio francese è quello di Brunetto Latini. Io ho imparato il francese solo perché Dante lo sapeva, Brunetto Latini non lo sapeva e quindi è solo scritto innanzitutto, non lo parlo mai. Come sentite il mio accento francese è orripilante. E però per me quel testo viveva di un fascino, aveva un suo fascino forte che in qualche modo vedo nel riproporsi, nel complesso intrico di rapporti fra Dante e il suo primo amico, quello che lui chiama il primo amico, che tratta per tutta la vita o per tutte le opere in una maniera che descriveremo insieme, scopriremo insieme, non ve la dico subito tutta adesso. Il gioco di parole che c'è dentro, l'ambiguità che c'è dentro, secondo me, che volevo stesse un po' al cuore di questo incontro, è che non dico chi dei due è grande. Chi dei due, in un certo senso, è il grande amico dell'altro. Il grande amico può voler dire due cose, chi è il più grande o chi è il più grande come amico. E questa cosa sta, secondo me, sospesa nel rapporto fra Dante e Cavalcanti fin dall'inizio e, diciamo così, fino alla fine, fino all'ultimo momento in cui Dante si ricorda di Guido, che forse è Purgatorio XI, quando parla allusivamente della storia letteraria per come la vede lui. Dico qui per la prima volta per come la vede lui, riferendomi a Dante, ma dovete sottintenderlo a tutto quello che dico. Ogni volta che dico Dante parla di Dio, voi, fra parentesi, dovete sentire per come lo vede lui. Dante parla dell'amore, dice questo, per come lo vede lui. Forse Dante ha vinto molte delle sue battaglie proprio perché ha imposto il modo di come lo vede lui, come se fosse l'unico modo per vedere le cose. E a Guido è toccato un po' anche questo destino, questo è Guido per come lo vede Dante. Non solo, cercherò di dare voce anche un po' a Guido. Ok? È un buon inizio? Ci siamo più o meno? Ho risposto alla domanda? È una domanda corta e la risposta è lunga, ho capito, va bene, i tuoi occhi dicono tutto, i tuoi occhi dicono il dolore. Volevo dire sì per come la vedo io, hai risposto, però non so ora se c'è qualcuno che vuole approfondire, però sì, hai risposto. A me è sembrato interessante anche per questo, perché la mia impressione istintiva era che nel momento in cui due libri, o perlomeno nel momento in cui Dante scrive La vita nuova, il grande amico è senza meno cavalcanti, in tutti i sensi, con le cose. E poi le cose cambiano, la bilancia della grandezza in fondo si riequilibra, perché Dante fa alcune scelte che sono scelte probabilmente non completamente di successo immediato. Guido rimane potente come figura intellettuale per lunga parte della vita di Dante e come figura politica, tanto che Dante si troverà nel suo breve priorato a dover fare i conti con Guido e avallerà la sentenza di esilio che poi porterà alla morte di Guido. Guido viene cacciato da Firenze perché è una testa calda in sostanza, uno dei tanti. E Dante avalla, non interviene per il suo amico, e diciamo Dante si trova un guido molto potente durante la propria vita, ma Dante ha traguardato un pubblico più lontano e ha vinto la battaglia probabilmente non solo del successo immediato, perché Dante ha successo immediato, ma anche come scrittore, ma anche la battaglia per, chiamiamola così, la posterità, quella che Petrarca chiamerà la posterità. Dante ha un modo molto migliore di Petrarca. Questa è un'altra cosa che farò spesso, io odio Petrarca. E quindi Dante fa sempre meglio di Petrarca, Petrarca inventa la posterità, ma Dante lo dice meglio. Dante dice coloro che questo tempo chiameranno antico. Non è mica male, cioè noi siamo coloro che questo tempo, il tempo di Dante, chiameranno antico. Ecco, Dante ha vinto la scommessa con noi. Guido un po' meno, Guido è più duro da leggersi, vedremo anche perché. Sì, no, è una parte interessante, diciamo un centro molto interessante di questo argomento è che nei due libri si può, soprattutto nella vita nuova, si può cogliere forse il momento iniziale di questo rapporto, non solo fra questi due autori, ma fra queste due persone, fra questi due poeti, ma anche fra queste due persone. E forse il punto in cui si vede meglio, più plasticamente direi, è quello che tu hai segnalato come prime letture, che è la lirica con cui Dante si rivolge agli altri poeti in cerca di risposte, e uno dei risponditori o rispondenti, non saprei, è Guido Cavalcanti, fra gli altri. Sì, forse possiamo introdurre questo argomento e parlare, diamo la possibilità anche alle lettrici di leggerci queste due composizioni. Sì, questa è una mossa importante, spero che questo traspaia dal modo con cui parlo e nel modo con cui tratto i testi. Io sono convinto che le nostre parole, di noi oggi, di chi porta la giacca in questa giornata calda e chi sta dietro la cattedra, chi sta seduto sulla cattedra, come amo fare io, il nostro lavoro è quello di stare al servizio di parole più importanti delle nostre, quindi è bene che si ascoltino quelle parole. Io metto due piccoli punti come pulci nell'orecchio, proprio per guardare a questo che sta succedendo nel rapporto fra Dante e Guido. La vita nuova è un testo, come quasi tutti i testi di Dante, retrospettivo, cioè Dante arriva a un punto di scrittura e nel punto della sua scrittura colleziona il proprio passato e lo controlla e quindi la vita nuova dentro di sé ha non solo l'incontro con Guido, ma ha la storia di ciò che viene dopo l'incontro con Guido. E' giustissimo cominciare da qui, da questo scambio di sonetti, nel racconto della vita nuova Dante si focalizza su molte delle sue esperienze dell'amore per Beatrice e una di queste è un sogno, è un sogno che lui racconta poi in un sonetto e il sonetto esce fuori con una domanda di interpretazione. Questa domanda di interpretazione ha delle risposte varie, molto anche variegate, alcune anche decisamente giocose. Qualcuno dice, ma sarà meglio che tu faccia una doccia fredda perché questa tua storia d'amore mi sembra che sia un po' troppo potente. Ti fa male alla salute, in sostanza, fai una doccia fredda, calmati e ti passano i sogni. Guido risponde invece con una voce diversa, Guido risponde con una voce che autorizza Dante. Autorizzare qui è usato proprio in senso molto tecnico, lo rende un autore. Guido è grande in quel momento dal punto di vista del prestigio intellettuale, Dante più giovane di lui manda fuori questo sonetto e Guido rispondendogli gli dà dignità, dà dignità al giovane Dante per l'ignità di parlare, di parlare d'amore e di sapere. Non proprio di scienza, Dante non lo farà mai, Guido lo farà, ma di sapere. Quindi cominciamo da lì. Dimmi tu da che parte cominci? Si comincia con Dante, perfetto. Pensando io a ciò che mi era apparuto, propose di farlo sentire a molti, gli quali erano famosi trovatori in quello tempo e conciò fosse cosa che io avesse già veduto per me medesimo l'arte del dire parole per rima, proposi di fare uno sonetto nello quale io salutasse tutti gli fedeli d'amore e pregandoli che giudicassero la mia visione, scrissi a loro ciò che io avea nel mio sonno veduto. E cominciai allora questo sonetto, lo quale comincia a ciascun'alma presa. A ciascun'alma presa e gentilcore nel cui cospetto vello dir presente in ciò che mi riscrivan suo parvente salute in lor Signor, cioè l'ore. Già erano quasi che a terzate l'ore del tempo che ho né stella né lucente quando mi apparve amor subitamente cui e senza membrar mi dà orrore. Allegro mi sembrava amor tenendo mio cuore in mano e nelle braccia avea Madonna involta in un drappo dormendo. Poi la svegliava ed esto core ardendo lei paventosa umilmente pascea appresso girlo noi vedea piangendo. Grazie Anita e passo direttamente a Serena vedeste al mio parere ogni valore e tutto gioco e quanto ben om sente se foste in prova del Signor Valente che signoreggia al mondo dell'onore. Poi vive in parte dove noi amore e ti è ragione nel cassa della mente si va soave per sogni alla gente che cor ne porta senza far dolore. Di voi lo core ne portò vedendo che vostra donna la morte che dea non drilla de sto core di ciò temendo quando va parve che sen già dolendo fu il dolce son che allor si compia che il suo contrario lo venia vincendo. Grazie Anita grazie Serena prima di fare qualsiasi considerazione mia forse ci puoi decifrare quello che abbiamo sentito per sommi capi e c'è Dante che descrive un sogno e dice che ne dite e Guido che dice ti spiego che cosa ne penso. ti spiego che cosa ne penso. Allora sì due cose sostanzialmente poi il diavolo è nei dettagli ma anche il senso è nei dettagli il significato è nei dettagli Dante chiama coloro a cui si rivolge trovatori cioè usa un termine vecchio usa un termine non al cioè un termine che sa di straniero di vecchio e di straniero e quindi in qualche modo subito appena mette in campo Guido lo mette in campo come qualcuno che è altro da sé è sì il primo amico però ha con sé un'autorità che è diversa dalla sua stiamo parlando del Dante che scrive La vita nuova nel 1290 quindi quando ormai è già un maturo lo so che è una cosa assurda dirlo adesso ma è un maturo 25enne un maturo 25enne una cosa folle a dirsi adesso però quello era il sonetto è Dante 18enne era qualche anno prima comunque ora che è nella vita nuova e che guarda tutta l'esperienza del suo rapporto con Guido lo chiama un trovatore dice di se stesso un'altra cosa fondamentale dice che per se stesso aveva imparato a scrivere poesia cioè Dante dice a Guido tu sei una figura di autorità un'autorità un po' strana e però non mi ha insegnato niente sei un maestro non sei un padre non sei un maestro non sei chi mi ha formato dal punto di vista poetico Dante dice quello l'ho trovato quell'arte lì l'ho trovata da me stesso quello che invece Guido fa rispetto a Dante è appunto quello di confermare che la poesia di Dante che è una poesia un po' strana cioè non so se avete visto il film di Ridley Scott non so ora parto per una tangente il film di Ridley Scott Hannibal no? che è ambientato a Firenze Giancarlo Giannini recitava eccetera e Hannibal il cattivo chiamiamolo così ma molto fascinoso maestro scusate dottore Hannibal Lecter recita questo sonetto e poi concluderà dicendo mi è quasi venuta voglia di mangiarle la moglie al perché c'è un cuore mangiato insomma Dante racconta che c'è un cuore mangiato sì nel sogno c'è Beatrice nelle braccia di amore amore ha in mano il cuore questo amore c'è un po' troppe mani è un po' troppe braccia però ha in mano il cuore di Dante ha in braccio Beatrice addormentata ed è una premonizione della morte in fondo questo sta accadendo dal punto di vista di Dante della vita nuova che scrive post mortem di Beatrice e e poi dà il cuore di Dante a mangiare a Beatrice e Beatrice è paventosa e umile allo stesso tempo cioè ha paura e si presta in qualche modo a questo gioco e Cavalcanti risponde non dicendogli avrei potuto dirlo insomma smetti di farti le canne cioè non ti drogare qualcuno gli dice fatti una doccia fredda lui avrei potuto dire wow piano con i simboli piano con i sogni invece no no Guido risponde dicendo wow sai qualcosa da dire a tutti noi vedesti al mio parere onnevalore cioè hai visto hai preso il centro hai fatto centro con quello che stai facendo tutto gioco e quanto bene home sente cioè tutta la gioia possibile quindi hai visto ciò che amore può dare l'estremo diciamo che l'amore può dare e e anche l'estremo del piacere possibile quanto bene home sente dice tre volte tutto siccome siccome è Cavalcanti è un buon poeta non dice la parola tutto tre volte ma dice ogni tutto e quanto che vuol dire anche in questo caso la totalità di e in qualche modo facendo così immediatamente autorizza Dante a parlare ancora a scrivere ancora a farci sapere altre cose di questo misterioso inizio di innamoramento perché insomma questo è l'inizio di un innamoramento l'inizio di una esperienza di amore cosa posso aggiungere Dante cambierà aggiungo una piccola gloss se Dante cambierà più avanti in un altro momento in cui ancora parla di Guido cambierà il termine che usa per parlare di chi scrive poesia ora nel presente e dirà non più trovatori ma dirà dicitori per rima contrapponendola ai poeti per Dante a livello della vita nuova i poeti sono solo i poeti antichi Virgilio Orazio Omero chi cita ancora Ovidio sono loro i poeti i nuovi i nuovi scrittori gli scrittori che parlano degli stessi temi e magari scrivono bene tanto quanto gli antichi si chiamano per Dante dicitori per rima e lui chiama la sua poesia il mio dire è cambiato qualcosa tra l'inizio della vita nuova e il paragrafo il capitolo 24 o 17 a seconda di quale edizione si segue ma è cambiato qualcosa in questo bel blocco del testo è cambiato anche il punto di riferimento il vocabolario con cui si parla della poesia in fondo i poeti fanno sempre questo i poeti perché ci piacciono i poeti e le poetesse perché vedono il mondo attraverso il linguaggio e creano il mondo attraverso le parole e quindi bisogna ascoltarle queste parole il lavoro del mestiere dell'insegnante o del filologo si diceva un tempo è ascoltarle queste parole e farle parlare ecco c'è una grande differenza tra l'inizio della vita nuova e la sua metà ora tu parlavi ora della poesia di come è vista la poesia in generale non ti voglio distogliere troppo dai testi perché so che so che pensi che che quello sia l'importante insomma servire il testo anche col commento però io sono rimasto sorpreso sorpreso non sorpreso perché poi si hanno ricordi anche liceali di Dante di quel periodo ma dal ruolo della poesia cioè questo scambio di sonetti e di concetti anche sulla poesia fra persone che sono anche più o meno personaggi pubblici importanti cioè che oggi penseremo non avrebbero molto tempo da perdere con la poesia perché hanno da gestire cose e quindi chiedo se insieme ai tempi è cambiato anche il ruolo della poesia penso di sì ovviamente ma che tipo di ruolo aveva la poesia per quelle persone se era solo per poeti se era importante solo per i poeti e per chi li leggeva o se era più importante nella Firenze del tempo di quanto non sia importante oggi la poesia nella vita pubblica guardo gli organizzatori dicendo avete messo un diavolo qui accanto a me questa è una bellissima domanda domanda piuttosto complicata mia figlia mi accusa sempre ogni volta che mi fa una domanda di compinciare troppo indietro nella risposta lei dice se io ti chiedo che ore sono non mi devi dire come si è inventato l'orologio perché non è quella la domanda quindi parto però un pochino indietro non troppo indietro non troppo indietro parto un pochino indietro parto dal fatto che questi testi questo blocco di libri che ho messo qui sul banco e dietro i quali un po' mi nasconde un po' cerco di proteggermi vengono da un mondo che non è il nostro il nostro mondo è nato 250 anni fa no meno 200 e pochi anni fa tra tra la Germania e e e l'Inghilterra con il romanticismo noi siamo lettori e lettrici post romantici non c'è niente da fare e non per quanto possiamo così coltivare letture pre romantiche leggiamo il rinascimento ma allora leggiamo i poeti del rinascimento le poetesse del rinascimento ma le leggiamo con una un addestramento un training profondo che è romantico a noi piacciono gli eroi le eroine piacciono le grandi personalità lo scontro fra il contesto e il e chi porta avanti questo è Hegel questo è Hegel per bambini che che noi ci abbiamo bevuto con il latte ce lo propina Hollywood tutti i santi maledetti giorni ce lo propinano i romanzi rosa ce lo propina qualsiasi ce lo propina la la retorica dell'etica dell'impresa siamo all'isolotto lo posso dire porca miseria cioè credere bisogna essere capitani coraggiosi e capitani di industria ok quella roba lì esiste da 200 anni ok questa roba qui è tutta un'altra roba questo questi testi lavorano su un sistema di valori completamente diverso quindi la tua domanda la poesia era roba da gente politica oggi no allora sì e parecchio per un motivo fondamentale perché non so quale potrebbe essere l'esempio attuale cioè il controesempio attuale c'è se è il calcio no no perché gli sportivi poi è difficile entrino in politica boh Paolo Rossi andò in Parlamento vabbè no ok è l'impresa è il successo di impresa cioè chi ha successo nell'impresa si qualifica immediatamente come candidato o candidata plausibile per un posto politico nel 200 era chi si qualificava come parola grossa ma seria e qui devo mettere Gramsci da parte cioè non è Gramsci non è Gramsci ma è una cosa un po' diversa ma chi si qualifica come intellettuale nella Firenze del 200 ha aperta con con strade diverse ha aperta la carriera politica le strade diverse sono evidenti proprio nel caso di Dante Cavalcanti c'è una legge a Firenze che controlla la politica di fine 200 che dice che i magnati non possano far politica perché sono teste calde perché sono violenti perché sono feudali perché è roba vecchia non li vogliamo i magnati non vogliamo chi è legato a un'etica cavalleresca ok perché quelli si controlla a male per chi non crede di una democrazia in sostanza se vuoi fare politica devi scriverti nelle arti devi essere un artigiano Dante è scritto alle arti Cavalcanti è un magnate Dante si qualifica come intellettuale e entra in politica la vita nuova nel nel 1290 più o meno fa abbastanza splash a Firenze brutta parola diciamo smuove un po' le acque a Firenze soprattutto perché Dante ci arriva preparandola con la circolazione precedente delle sue rime e da lì a dieci anni è nel posto più importante per la politica fiorentina cioè è priore Cavalcanti la politica la fa da fuori la fa in strada la fa attaccando corso donati con un a cavallo con un con un dardo ok e per chi è tagliato fuori legalmente ma tutti e due quando interloquiscono e chi è intorno a loro che tratta di poesie d'amore parla d'amore in certi termini molto precisi che vedremo fra un attimo proviamo in termini cioè razionali e scientifici si qualifica come intellettuale e quindi diciamo ha un buona una buona piattaforma farsi politico quindi la risposta è quello che sta succedendo qui è profondamente politico l'intellettuale è una figura che è una figura di riferimento ok adesso effettivamente penso che sia il successo l'impresa sì vorrei che fosse il calcio ma non lo è illuminati da questa risposta facciamo un passo in più e visto che è una abbiamo visto che è una cosa importante sia dal punto di vista culturale sia da un punto di vista politico e come dicevi prima in questo momento fra Dante e Cavalcanti va tutto bene uno è il primo amico l'altro è un ragazzo di belle speranze ragazzo un adulto ci hai detto di belle speranze grazie forse per la mancanza di sistema sanitario era già un adulto a quell'epoca e sono sodali in questo momento nella creazione di un modello culturale forte che è credo quello che si chiama lo stil novo insomma quello che loro chiamavano lo stil novo che cosa fanno per costruire questo modello che cosa fa l'uno e che cosa fa l'altro e che cosa fanno insieme e come questo si riflette sui testi che producono altra domanda enorme avete tempo fino a stasera alle 8 no provo a farla molto velocemente allora che cosa fanno insieme allora lo stil novo quello che si chiama generalmente stil novo maledetto dante è una parola sua è un'espressione sua l'ha inventata lui l'ha inventata lui molto tardi l'ha inventata nella commedia e poi si è imposta su retrospettivamente su qualcosa che forse non esiste forse non è mai esistito non c'era una scuola così come la scuola siciliana non è la scuola non è non è una bottega che crea artigiani della parola lo stil nuovo è qualcosa che retrospettivamente dante dice ah guarda stavamo facendo tutti un po' la stessa cosa cosa facevano allora eh ho preso appunti eh cosa facevano eh beh facevano poesia di un tema su di un tema molto specifico poesia d'amore Dante è molto chiaro a un certo punto nella vita nuova dice la poesia in volgare cioè la poesia nel vernacolo la poesia in quello che noi chiamiamo l'italiano eh a differenza della poesia classica che era in lingue controllate come il latino e un po' anche il greco ehm è fatta per scrivere d'amore e solo d'amore non si parla di altro ok però dentro l'amore ci sta tutto cos'è questo tutto che sta dentro l'amore secondo loro allora poesia d'amore basata su eh l'idea che l'esperienza dell'incontro con una persona dell'altro sesso e qui sono tutti uomini che parlano quindi con la donna ok esiste anche un uno stil novismo fra virgolette al femminile eh con Piuta Donzella è una poetessa un po' evanescente nel 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 medioevo italiano ma forse era veramente una donna che scrive degli stessi temi al maschile cioè l'incontro con con l'uomo che fa produce alcuni cambiamenti all'interno della persona che fa questa esperienza allora poesia d'amore poesia basata sul l'incontro come con l'incontro con la donna come una creatura che eh eh ha un effetto sconvolgente sul eh sulla persona che prova un sentimento per lei non è l'amore qualcosa che si negozia facilmente non si parla di amori di compagni di banco a scuola e non si parla neppure dell'amore che porta al matrimonio e alla famiglia quella è un'altra cosa quello è un contratto nel medioevo non è eh non stanno parlando di questo stanno parlando di amore come l'incontro con un essere eh e una situazione superiori e sconvolgenti ok prima cosa fondamentale quindi eh il parlare di amore eh aiuta a parlare dell'esperienza dei soggetti chi prova amore cosa succede a chi prova amore succedono sostanzialmente due cose uno ehm lo shock migliora gli esseri umani cioè lo shock beh fa due cose allora eh lo shock prima di tutto ti dice se sei una persona che può o non può provare sentimenti alti che può o non può ehm avere una vita intellettuale forte ora non lo so quale potrebbe essere un equivalente contemporaneo forse il gusto noi pensiamo in termini di gusto no se eh riesci a distinguere un brunello di Montalcino da un gallo nero hai gusto ok hai gusto eh io non lo so fare sono tagliato fuori da quell'esperienza lì ok sono tagliato fuori da quella possibilità mi dai due bicchieri di vino boh chissà quale dei due è no per me non c'è differenza io sono tagliato fuori la stessa cosa è per l'amore nel nel gioco del ehm dello stil novo chiamiamolo così eh chi prova amore è automaticamente una persona interessante una persona con cui vale la pena parlare è una persona che tra virgolette politicamente potremmo anche fidarsi è è qualcuno speciale eh le parole che vengono usate per definire questo sono eh gentile che non vuol dire educato e con di buone maniere no no vuol dire nobile vuol dire eccezionale ok quando si dice tanto gentile tanto onesta pare non vuol dire che eh non rubava onesta e eh e ti facci e ti dava il posto quando eri sull'autobus no non è quello ok vuol dire nobile e ehm che ha diciamo norme di comportamento ehm riconoscibili ok questo non è esercizio mio questo lo faceva continui cinquantacinque anni fa quel saggio alla mia età precisa eh quindi ehm la persona che prova amore è gentile amor che al cor gentile il ratto si apprende questo questo ve lo ricordate ste dante poi dopo è dove l'equivalenza era immediata l'amore prende come il fuoco ehm velocemente il cuore gentile e quelli non gentili no e quindi l'amore è una cartina al tornasole un esperimento chimico diciamo così due una volta che sei innamorato e e ti devi dar da fare e devi quindi eh fare del tuo meglio per perfezionarti per essere gradito all'altra persona eh tutta questa queste due idee vengono alla alla poesia di dante di cavalcanti che stiamo più o meno confrontando vengono dal passato provenzale eh poeti della generazione precedente alla loro e stranieri eh arriva un po' dalla poesia latina arriva probabilmente anche tanto la poesia elegiaca latina c'è molto che eh dante soprattutto prende da loro eh ma loro due aggiungono qualcosa di nuovo a questa ricetta a questa eh aggiungono l'idea che l'amore è così sconvolgente che eh provoca una reazione non solo sentimentale non solo etica ma per cavalcanti una reazione fisica eh dirompente così profonda da alterare le capacità razionali e per Dante un'altrettanto incredibilmente profonda eh esperienza che però non altera ma ehm amplifica le capacità razionali in tutti e due i casi quindi questo è l'elemento nuovo che loro portano in tutti e due i casi eh a comune eh nel loro eh interesse per l'amore e per la poesia d'amore c'è l'idea che parlando d'amore possiamo parlare del mondo l'aveva fatto per un attimo Guido Guinizelli prima di loro che è il maestro di tutti e due Guido Guinizelli aveva poeta bolognese eh che è un po' il padre veramente di quello che sta succedendo qui che aveva cominciato a scrivere poesia dicendo eh la stessa cosa eh al cor gentile impaira sempre amore cioè l'amore torna sempre a casa sua nel cuore gentile e poi aveva cominciato a dire ma com'è la donna è la donna di cui siamo innamorati è come un angelo perché è una creatura a metà tra il divino e l'umano la donna angelicata non è solo una figurina ottocentesca la donna angelicata per guinicelli è un modo per comprendere il rapporto tra il divino e la la divinità che crea e il mondo creato e comincia guinicelli a far vedere che nelle relazioni che ci sono all'interno dell'amore si possono vedere le relazioni che tengono insieme la fisica del mondo il mondo è fatto con le stesse basi sulle stesse basi con gli stessi elementi che si possono vedere nel rapporto d'amore il termine tecnico per questo è analogia entis del medioevo è un'idea che c'è un po' dappertutto cioè che l'intelletto umano non capisce non può capire la divinità direttamente che è Dio boh cosa fa Dio ma come si arriva a Dio non lo so ma c'è un percorso di avvicinamento basato sul fatto che si presume anzi si dà per scontato che le stesse relazioni che esistano nella divinità esistano riflesse nel cosmo quando c'è la parte della fisica per tutti se chiedi a un fisico perché io ho un cognato che è un fisico ed è profondamente spirituale gli chiedo ho anche uno zio che è un chimico altrettanto profondamente religioso e gli chiedo ma voi come fate da scienziati a essere credenti e loro mi rispondono no no proprio da scienziati è nella bellezza nell'armonia nella profondità nell'incredibile cosa di come è fatto il creato altissimo onnipotente buon signore San Francesco fa la stessa cosa più o meno senza farlo scienziato loro dicono è proprio lì come è fatto il cosmo che si vede la mano di Dio ci siamo fino qui è lunghissima lo so basta ci siamo volevo solo dire volevo solo dire che dove Dante e Calcanti si separano e lo vedremo fra un attimo è su sì ho capito tutta questa bella storia ma come ti fa sentire l'amore ok siamo proprio sicuri 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 che sia soltanto una strada per capire il mondo quando sei innamorato se lo chiedi a qualcuno che ha 16 anni 16 anni non capiscono più niente e Calcanti dice ma siamo sicuri che veramente si capisca qualcosa si capisca il mondo non saremo ingannati dall'amore stravolti no prego figurati no no volevo proprio spingerti a volevo proprio spingerti a introdurre la fase in cui le cose forse non vanno così bene fino poi a precipitare come ricordavi all'inizio non soltanto in un dissidio esistenziale e non solo poetico ma in una rottura completa vorrei introdurre questa parte facendo leggere ad Anita credo il sonetto di Dante tanto gentile tanto onesta pare soltanto il sonetto Serena Serena aspetta che grazie Mattia tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando è l'altrui saluta con i lingua dev'entremando muta e gli occhi non ardiscano di guardare e la si va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare mostrasi si piacente a chi la mira che dà per gli occhi una dolcezza al core che intender non la può chi non la prova e par che dalle solabba si muova uno spirito suave pien d'amore che va dicendo all'anima sospira grazie grazie meraviglioso è tutto bello allora faccio scusate faccio tre cose tiro fuori un po' di parole da questo da questo sonetto ok e poi vi do una lista di parole che vengono dai primi tre sonetti della raccolta di cavalcanti e vediamo che effetto fa vabbè gentile e oneste l'abbiamo detto all'inizio benignamente miracolo piacente dolcezza soave sospira ok io ci sto ci starei se l'amore fosse così cavalcanti stesso tempo in cui piccola ricerchina semantica parole chiave sospiri ah ok guarda ci sono anche lì dolore temenza cioè paura spiriti pena pianto spiriti oh sospiro si lo so cos'è si no pena pianto dolore pietà morte ferite sbigottite distrutto noioso doglioso cosa c'è fiero servitore triste distrutto di nuovo morto ok c'è un punto di dissonanza infinita fra Dante e cavalcanti in questo momento qui Dante scrive una poesia che ha grande successo immediato e tutti riconoscono un po' come la creazione quando si la creazione no le dio crea il mondo il primo giorno fa questo fa il secondo giorno fa quest'altro alla fine di ogni giorno dice vide che tutto ciò era bene ok perché mica lo sappiamo che tutto era bene cavalcanti vede le stesse cose di Dante arriva alla fine del primo giorno e dice come dicevano i manichei e vide che tutto era un gran problema e il gran problema nella creazione il gran problema nell'amore viene fuori dal vocabolario che usa parlano della stessa identica esperienza e tutti hanno parole come virtù come nobile come gentile come sospiro come spirito ma poi il valore che gli danno è completamente opposto per uno è dolce è un miracolo è Dio che si manifesta cioè Dio che si manifesta il miracolo è la natura che agisce per se stessa scusate scusami è Dio che agisce per se stesso senza passare per la natura ok Cavalcanti ci vede l'opposto ci vede una terribile perturbazione e ci vede una perturbazione così tanto di un approccio razionale all'esistenza perché questo è quello che Cavalcanti cerca ok un approccio razionale all'esistenza che a un certo punto dice Dante è tira tira la corda si è rotta e ora non funziona più la nostra amicizia è vero solevanti spiacer persone molte tutt'or fuggivi la noiosa gente di me parlavi sicuralmente che tutte le tue rime avie ricolte or non ardisco per la vil tua vita far mostramento che tuo dir mi piaccia né in guisa venga a te che tu mi veggi se il presente sonetto spesso leggi lo spirito noioso che ti incaccia si partirà dall'anima invilita insomma qui Guido gli dice proprio tu sei rimbambito un po' e hai preso una brutta strada e delle brutte amicizie come dicono le zie sono le amicizie che ti stanno un po' rovinando e però che cosa c'è sotto cioè c'è un dissidio perché poi vedremo che c'è anche un dissidio politico e pratico perché e anche forse delle divergenze che sono caratteriali letterarie politiche e ci parlavi di Cavalcanti come di un nobile piuttosto orgoglioso forse lo chiameremmo uno snob oggi non so bene in quale senso della parola snob perché ne ha molti però insomma e mentre Dante è uno più impegnato a farsi ad aver successo forse no? a fare una carriera a promuovere la sua poesia tu mi vuoi portare nel campo politico ma io ci voglio arrivare ci voglio arrivare di lontano ci voglio arrivare di lontano ma cioè ci siamo allora ogni azione qui è un'azione politica cioè quello che si stanno scambiando è un discorso pubblico fra le altre cose ecco anche questo c'è da dire la poesia nel Medioevo gira sulle radio libere gira nel senso è scritta da poeta a poeta ma non è che vada per posta va pubblicamente e la risposta è altrettanto pubblica quindi siamo nell'arena pubblica in questo sonetto che è stato letto così appassionatamente e cioè così appropriatamente con la giusta passione c'è una parola che torna tre volte vilmente la vil tua vita l'anima invilita vil è il contrario di nobile per per cavalcanti è come se gli dicesse guarda tu un tempo ti qualificavi come nobile adesso no sei finito di nuovo con le cattive compagnie tendenzialmente sei finito nel volgo ok sei finito in mezzo a tutti gli altri perché perché pensi troppo vilmente pensi non ti sei innamorato non parli cioè non provi non è la questione del sentimento che provi non è la questione neppure del di ciò che scrivi è del è il pensiero cioè tu stai ragionando in maniera diciamo così che io adesso trovo forse snobisticamente trovo non più giusta per me e non posso più raccogliere le tue rime se mi riscrivi non ti rispondo ok non siamo più sullo stesso sullo stesso piano la cosa interessante di Guido è che in questo sonetto si comporta un po' come un medico taumaturgo cioè l'ultima terzina la chiusa del sonetto è molto strana in un certo senso lui dice se il presente sonetto spesso leggi cioè se tu leggi spesso questo sonetto che ti ho appena mandato e gli sta dando proprio una specie di ricetta questo sonetto è da assumere tre volte al giorno prima dei pasti cioè se il presente sonetto spesso leggi lo spirito noioso che ti caccia cioè la tua malattia che ti dà noia questo sbilanciamento dei tuoi spiriti vitali che era un modo per dire perfetto quindi anche Marchesi stringa Marchesi più conciso no non lo so ci siamo quindi sta facendo prima gli manda una ricetta lo spirito noioso parla di malattia e quindi anche questa anima invilita la sua anima è diventata una specie di corpo in sostanza ok è diventata qualcosa che può essere curato con una medicina della parola ma che è scritta in una maniera con una posologia precisa e con degli ingredienti precisi come si farebbe per un ammalato ora Dante era un medico speciale ok era iscritto alla corporazione dei medici degli speciali anche se non esercitava ok Guido non è un medico è uno speciale ma in questa mossa netta di trattare l'anima come se fosse corpo lo vedete dove sto andando a parare sto andando a parare verso Inferno 10 cioè c'è qualcosa in Guido nel modo con cui Guido si rivolge a Dante nel modo con cui Guido tratta le questioni d'amore che lo avvicina a quello che Dante definirà l'epicureismo nella Divina Commedia nel canto fiorentinissimo il canto dieci dell'inferno canto fiorentinissimo ci sono Farinata e Cavalcante dei Cavalcanti il padre di Guido quindi il genero e il padre di Guido di Guido Cavalcanti sono in una tomba infuocata in quanto epicurei e per Dante l'epicureo a differenza dell'epicureo moderno che è il gozzovigliatore diciamo così per Dante l'epicureo è diciamo chi sta nella setta di coloro che l'anima col corpo morta fanno cioè coloro che considerano che con la morte del corpo muore anche l'anima quando muori i tuoi elementi si si dissolvono e l'anima che era semplicemente questione di chimica e elettricità non c'era elettricità ma insomma l'idea che l'anima era una funzione del corpo l'anima si scioglie perché è altrettanto materiale del resto Guido Cavalcanti per necessità chiamiamole così narrative non è presente nella Divina Commedia perché Guido muore più tardi rispetto alla data fittiva fittizia del poema il poema si svolge nel 1300 ma è scritto dopo Guido muore nel 1302 se non sbaglio quindi è fuori dall'orizzonte prosopografico della commedia wow l'ho detto bene ma è lì per questo tipo di filosofia per questo tipo di trattamento dell'amore con una questione che termina con la morte cioè che è una questione fisica e pertanto tendenzialmente termina con la morte questa che è una affermazione diciamo così di fede filosofica è un'affermazione anche di fede in qualche modo politica le tombe dei cavalcanti scusate le tombe degli uberti lì accanto ai cavalcanti sono profanate varie volte gli uberti sono bestia nera per il comune di Firenze non saranno mai riammessi eccetera e l'idea del ghibellinismo degli uberti come eresia il ghibellinismo era non solo fede politica ma era considerata anche una fede eretica in qualche modo stinge si stempera e contamina anche i cavalcanti quindi il discorso di amore diventa discorso filosofico il discorso filosofico non è mai un discorso anche non politico quindi l'hai visto ci sono stato dentro il tema politico e siamo andati a finire anche nella Divina Commedia che è uno dei motivi per cui Dante ha vinto con cavalcanti cavalcanti non scrive niente molto signorilmente ciò che scrive lo lascia agli altri a commentare lo lascia agli altri a spiegare lo lascia agli altri ad autorizzare la grande canzone di Guido Donna mi prega avrà un commento in latino un commento filosofico in latino Dino del Garbo ci scrive un trattatello come se Luca Carboni avesse una tesi di dottorato scritta su una canzone non so ho preso forse ho preso quello sbagliato ma ormai i vecchioni sono tesi di laurea i cantautori ormai sono troppo sono troppo no ma Fabri Fibra ecco una bella tesi di dottorato a Friburgo su Fabri Fibra Dino del Garbo scrive una cosa così su una canzone di Cavalcanti e la autorizza dall'esterno Cavalcanti non si degna non si sporca mai le mani a spiegare ciò che faceva ad auto autorizzarsi Dante che è qualcuno che dicevi più propositivo e anche più pronto a entrare in politica entra anche nella politica culturale sporcandosi le mani e scrive la vita nuova per controllare i testi questi testi che giravano adesso vi dico cosa volevano dire nel convivio che non finirà fa la stessa cosa nella commedia ha deciso ha capito qualcosa di importante sulla poesia cioè che è bene non contaminarla con la prosa perché poi se no arrivano i teologi e ti dicono perché non hai scritto tutto in prosa scemo perché ci racconti le cose in poesia se ce le potresti raccontare in prosa ma anche nella commedia fa lo stesso lavoro di controllo dei propri testi e ritorna indietro a Guido e lo piazza in un punto ben preciso e ce lo colloca e ce lo chiude le arche in cui sono gli eretici sono tutte aperte adesso ma i coperchi saranno serrati alla fine quando arriverà il giudizio universale ok no non ti volevo distrarre per la verità dai testi perché penso che i riflessi poi quello che sappiamo di tutte queste cose si trovino lì come tu c'è un elenco di parole perché sono quello che fisicamente ci rimane di questo su cui ragionare e per tornare forse per venire a un argomento per tirare le somme venire a un argomento più leggero e naturalmente esorto chiunque volesse avesse delle curiosità e volesse partecipare alla discussione a farlo perché siamo andati un po' sprombattuto per lasciare un po' di per lasciare un po' di tempo alla discussione nel caso interessasse quello che ti ho scritto come ultimo punto è insomma alla fine questo grande amico poi a tirare le somme abbiamo visto che all'inizio era un po' cavalcanti abbiamo visto che erano diversi personalmente che avevano delle idee diverse sull'effetto che l'amore faceva che ruolo avesse e come la vedi tu se è possibile vederla in qualche modo chi è il grande amico poi tirando le somme alla fine alla fine di tutto o chi è il grande amico in varie prospettive potrei dire perché forse per noi è certamente Dante che fa ombra a tutti e forse però è una è quello che noi pensiamo come tu dicevi all'inizio sì una bella rinascenza cavalcantiana ci potrebbe essere allora la porto su un altro piano la muovo su un altro piano questa domanda no in fondo siamo partiti qui da qui e dovremmo tornare in fondo a questo punto chi dei due è il grande il grande amico sì cavalcanti lui all'inizio poi Dante lo costruisce come il vecchio amico vecchio come vecchio testamento c'è un momento meraviglioso nella vita nuova in cui Dante dice che vabbè ha avuto da poco la visione della morte di Beatrice non l'ha vista ma ha la visione di questo poi è per strada e arrivano due donne la prima è Giovanna la donna di cui è innamorato cavalcanti e poi arriva Beatrice e Giovanna la chiamavano aveva il soprannome di Primavera Dante cosa fa? inventa una bellissima interpretazione dei nomi a tutta al suo servizio e dice eccola Giovanna la chiamano così perché la chiamavano Primavera perché verrà prima di Beatrice quel giorno in cui io mi ero appena ripreso dalla crudele immaginazione della morte e Giovanna si può chiamare così anche perché è Giovanni San Giovanni che anticipa la venuta del Signore quindi in qualche modo Guido Cavalcanti viene spinto all'indietro come colui che preannunciava Dante quindi il grande amico diventa anche il vecchio amico qualcuno che è necessario ma che alla fine è anche superato diventa l'amico sicuramente scomodo dal punto di vista politico e dal punto di vista biografico ma rimane anche l'amico che ti segue fino in fondo nella vita ritorno per un attimo poi chiudo se queste forse la posso torno no allora aspetta la parte commovente la faccio in fondo faccio meglio oratori però ve lo dico subito che c'è la parte commovente quindi tenetevi pronti con i allora no dicevo la rinascenza la rinascenza di Guido sarebbe interessante rimane scomodo per Dante i conti non sono chiusi con lui non saranno chiusi neppure nella storia della letteratura ora succede qualcosa nella prima metà del novecento in campo anglo-americano che somiglia molto a quello che stava succedendo a Firenze è il rapporto tra T.S. Eliot e Desra Pound che è in qualche modo infatti uno molto dantesco e l'altro molto cavalcantiano che da punti di vista radicalmente anche diversi dal punto di vista politico e dal punto di vista letterario arrivano a scontrarsi intorno o secondo costellazioni politiche ideologiche e di scrittura che somigliano molto a quelle di Guido e di Dante Esra Pound viene chiamato nella dedica della Terra desolata viene chiamato il miglior fabbro in italiano nel testo di Eliot proprio perché il miglior fabbro è un'altra figura sarebbe Arnaud Daniel ma è il miglior fabbro in quanto qualcuno che ha anticipato la costruzione di una lingua che poi sarà l'altro ad usare sarà il secondo poeta ad usare e viene proiettato da Eliot come un antecedente ma un antecedente allo stesso tempo necessario e scomodo molto probabilmente continua questo tipo di dialettica tra figure che sono coimplicate l'una con l'altra la vita nuova non esiste senza le rime di cavalcanti non potrebbe esistere la vita nuova è la seduta la seduta psicanalitica in cui Dante si libera di cavalcanti la vita nuova è il modo per assorbire ed espellere i rime di cavalcanti dall'altra parte è anche vero che forse una tenuta di cavalcanti oggi c'è perché c'è quella perché c'è Dante che lo ha di nuovo assorbito e incorporato arrivo alla parte commovente il fatto che cavalcanti sia una spina nel fianco profonda di Dante sia dal punto di vista intellettuale sia dal punto di vista poetico sia dal punto di vista politico è tutto riassunto in tre parole che vengono fuori nel canto decimo dell'inferno quando Farinata parla con Dante parlano di politica parlano di grandi tragedie l'arbia colorata in rosso l'esilio perpetuo agli uberti poi smettono di parlare per un attimo sale su in ginocchio finalmente viene fuori cavalcante e si rivolge a Dante e gli fa scusa se per altezza se per questo cieco carcere vai per altezza di ingegno mio figlio ov'è perché non è Eiteco cioè se tu sei qui perché sei l'intellettuale guida di Firenze in questo momento ok mio figlio era bravo quanto te cioè se c'è qui per altezza di ingegno lui dov'è ora in questo mio figlio si ascoltano ancora e per Dante che sta scrivendo l'uomo che scrive queste cose sono scritte dopo la morte di Guido è difficile non sentire un eco biblica dentro queste parole questo è il primo omicidio nella storia umana che viene immediatamente da una voce dall'alto chiede dov'è tuo fratello quando Caino ammazza Bele la voce di Dio chiede tuo fratello dov'è in quel dov'è così forte perfetto perfetto ecco Dante che fa i conti con Guido fa i conti anche con se stesso non solo come poeta non solo come intellettuale ma anche come persona politica che in qualche modo si è macchiato le mani del sangue di Guido l'esilio a Sarzana sarà fatale a Guido prende la malaria e torna a Firenze per morire e Dante questo lo sa e c'è qualcosa in lui di Caino che della coscienza profonda di un rimorso esistenziale e non soltanto intellettuale e poetico grazie basta io voglio le domande grazie grazie mille Simone abbiamo ancora credo 5 minuti vedo 5 qualcosa vedo Emiliano che ancora vedo l'autorità che ancora è è una domanda io la vorrei fare se non ce n'è una prima prima il pubblico porto io allora io ne avrei più di una cerco di essere brevissima poi ti passo il microfono allora la prima è questa che cosa ne pensa lei dell'oggetto del disdegno di Guido nel canto decimo dell'inferno cioè chi è l'oggetto del disdegno di Guido poi la di non rispondere ecco va bene perfetto ecco e l'altra cosa sempre tornando un po' a questa presenza comunque di Cavalcanti così sottintesa a molti passi anche della commedia non è che in quel nel canto quinto dell'inferno sotto sotto Dante con quelle anime che amor di nostra vita di partille non condanna anche la visione dell'amore di Cavalcanti c'è questo connubio amore e morte velocissimo il disdegno di Guido il disdegno di Guido è forse una delle croci più belle non una delizia ma le croci più belle della della commedia alla domanda di Cavalcanti che vi ho appena citato Dante risponde colui che attende là per cui mi mena forse qui Guido vostro è del disdegno colui che attende là è Virgilio cioè Dante dice lui e mi porta non me mena ma mi porta forse a qualcuno che Guido disdegnò ci sono tre candidati in sostanza perché l'oggetto del disdegno di Guido c'è Virgilio c'è Beatrice e c'è Dio Beatrice è forse la più improbabile è la forza più improbabile e le due possibilità sono o Dio o forse più improbabile non è vero che la più improbabile è quella che mi piace di meno ecco mettiamola così perché sì perché in fondo Guido dice ma insomma come si fa a amare una donna morta se l'amore è una questione carnale quando è morta è morta basta lontano dagli occhi lontano dal cuore dice Guido Dante dice no è proprio quando more che finalmente si può smettere di aver problemi con la corporeità e il matrimonio sposata Simone Donati è proprio lì quando muore che si può trascendere è lì che impariamo in senso buddista che tutto è transitorio o agostiniano o boeziano è uguale tutte le regioni diano la stessa cosa cioè questo lì il grande globo come dice nella tempesta e tutto ciò che è si dissolve questo non conta la morte di qualcuno che ami dimostra proprio quello e Dante dice e lì si va in paradiso lì si parte la trascendenza parte di lì Guido questo non lo accetta quindi forse anche Beatrice Beatrice nel senso di continuazione d'amore di qualcuno morto le altre possibilità sono Dio Guido che passa la sua vita dice che aveva la reputazione racconta Boccaccio di passare di passare tutta la sua vita a cercare di provare che Dio non esiste un uomo materialista epicureo nel senso intellettuale del termine può aver avuto a disdegno Dio a me piace a me piace pensare che sia Virgilio quindi in un certo senso rispondo per vari motivi che sono sparsi nella vita nuova nella vita nuova Guido si becca due o tre grosse dediche quella iniziale quella di Giovanna eccetera e si becca anche una dedica fondamentale del libro quando c'è una parentesi meta letteraria in cui Dante dice ok allora vi dico come si interpreta e come si può scrivere la poesia nei nostri tempi dice si scrive secondo moedelli latini poco dopo dice poi quando è morta Beatrice ho scritto una lamentazione l'ho scritta in latino e Guido non vuole che io pubblichi niente in latino quindi non la riporto qui Dante ha un rapporto con la classicità di recupero di traduzione di incorporamento che di incorporazione di recupero che Guido non ha e forse il disdegno verso Virgilio mi affascina però se me lo fa la stessa domanda domani cambio quindi non I'm non committal su questa cosa l'altra su cos'era velocissima ah nel canto quinto no no e poi poi ne parliamo c'è una questione di sillogismi difettivi in cui Guido potrebbe rientrare ma il modo in cui sta traguardando la tradizione Dante si ferma prima di Guido si ferma ai francesi e pur cosa c'è un motivo per cui quello succede ma ne parliamo dopo ci porta da un'altra parte prego grazie ne faccio una sola una mi sarebbe interessato a capire qual è tutta la tradizione che lo stil novismo esclude chiaro e avanzati vecchi poeti va bene ma questa lasciamo la pelle no no la domanda che volevo fare è arbitraria se Dante fosse morto all'altezza della vita nuova ecco chi era il miglior fabbro per lei grazie è quello che mi è rimasto poi c'è la sirena eccetera è quello che mi è rimasto il colpo in canna su questa cosa qui cioè Dante se fosse se no non so non tanto se fosse morto pensiamo no no pensiamo questa cosa che Bonifacio VIII decide di non appoggiare i neri a Firenze ma senza Bonifacio VIII i neri non ritornano a Firenze e rimangono i donati se ne stanno fuori i circhi stanno lì e Dante fa il politico fino a che morte non lo separi niente esilio niente niente convivio niente divulgare eloquenza forse avrebbe scritto una questio noiosissima per l'università perché a un certo punto a tutti un po' aveva voglia di avere una laurea e lui voleva la laurea e non l'aveva avuta o un cavalierato e non l'aveva avuto e quindi per vanità l'avrebbe fatto ma non avrebbe scritto la commedia a quel punto avrebbe vinto Guido oh signore donna me prega donna me prega è uno dei testi più devastanti e difficili mai composti nell'italiano per la perizia metrica per la perizia intellettuale è un trattatello sull'amore come passione distruttiva che porta alla morte fenomenale non c'è niente nella vita nuova che regga quell'impatto lì ma c'è la commedia che riattiva della vita nuova tutto un materiale che farà innamorare romantici che farà innamorare i pre Raffaelliti e che quindi noi ci beviamo con latte della mattina insieme all'orzoro quindi quello lì sì ma io non avrei il lavoro perché non sono non sono abbastanza filosofo analitico per seguire Guido nella tecnica della della del suo ragionamento sono invece un filosofo abbastanza morale per seguire quello che sta facendo Dante i suoi strumenti li capisco abbastanza sono sempre di rincorsa perché Dante lavora bene però quello avrebbe vinto Guido avrebbe vinto Guido che fa impazzire quando pensi che Dante nel quarto dell'inferno e c'ha solo la vita nuova quando lo scrive dice io fui sesto fra cotanto senno e quegli altri cinque sono Omero Virgilio Ovidio Orazio cioè ragazzi è Lucano wow e lui ha scritto 42 apitoletti di poesie d'amore in volgare e dice il prossimo sono io wow ok che coraggio vabbè io sono stato un allievo di Domenio De Robertis e allora si capiva che per De Robertis era un po' difficile ammettere questa cosa però lo si comprendeva bene ecco Simone grazie abbiamo sfidato tutti gli altoparlanti della Biblioteca Nova io soltanto penso che prendano vita adesso mi picchino o mi menino ma nel senso che mi picchiano io saluto soltanto questo era l'ultimo dell'ultimo appuntamento dell'anno vedremo di farne anche l'anno prossimo però faccio salutare Emiliano che nella Biblioteca Nova che mi è stato dietro finora e che ringrazio e con lui ringrazio tutti quelli che lavorano a Biblioteca Nova e ringrazio Simone naturalmente grazie a voi grazie a voi grazie a tutti grazie a chi ha ai relatori diciamo precedenti e grazie a Simone oggi perché ha commosso ha toccato anche me il modo di sentire la poesia è una cosa che che tocca chi la conosce la legge quindi grazie a tutti voi e spero alla prossima spero presto tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti